Buonasera a tutti, colgo con piacere l'invito dell'amica Cristina Cappellini che ringrazio a partecipare con una mia lettura per il verso giusto. È un'esperienza bellissima che ci arricchisce, ci arricchisce in particolar modo in un momento come questo dove non riusciamo ad incontrarci, dove non riusciamo a incrociare i nostri sguardi e quindi non abbiamo più la possibilità di riconoscerci, di riconoscere la nostra presenza e di riconoscerci negli occhi degli altri. Io vi leggerò due testi che sono presenti all'interno di una raccolta che si intitola Biglietti con vista sulle crepe della storia, che è una raccolta che è in uscita proprio in questi giorni per punto a capo editrice. Il primo testo che vi leggo è un testo che sembra scritto adesso, che parla del problema della distanza, del parlarsi senza guardarsi, del significato della distanza. E invece è un testo di tre anni fa. Ti scrivo per non perdere l'abitudine alla penna, ai fogli bianchi, al rito quotidiano del pensiero. Il telefono lo lascio spento. Preferisco restare muto a guardarmi le mani nodose, pensare qualcosa di impreciso, fluttuante. Ma parlare a nessuno proprio non puoi chiedermelo. Non ci riesco senza vederti pronunciare parole con gli occhi, darmi qualche bacio sulle guance mentre mi dici «Torno presto». E lo sai bene, non può bastarmi WhatsApp per sapere cosa succede. Le parole digitate su un touchscreen spalancano il distacco, aprono voragini. È come se all'improvviso ti senta più lontano, evanescente. Così mi racconto da solo. Non vale la pena digitare improbabili saluti. Magari meglio il silenzio o persino il rischio di lasciarti pensare che ti abbia dimenticato, che non voglia più saperne dei tuoi tramonti. Passano i giorni, lenti. Li sgrano uno dietro l'altro tra le dita del mio rosario e sento sempre più forte il desiderio di fissarti negli occhi. Sento il bisogno di sentirmi dire in faccia, a viva voce. Fosse anche per l'ultima volta che è ancora un po' di tempo per me. La seconda poesia che vi leggo è invece una poesia che parla della contraddittorietà del reale e di come un qualcosa come l'estate, ad esempio, che viene comunemente considerato positivo, se guardata da un altro punto di vista, da un altro angolo di visuale, cambia completamente il suo significato. Mi chiedi perché amo l'inverno, il suo freddo ostinato e non la luce del sole? Domandalo al ghiaccio che scola d'estate sul crinale di questa lama sottile. Chiedi alla neve d'agosto come si sente a finire nel fiume, lontana da casa, in un mare straniero di gente. Nella speranza di rivederci presto e di poterci riabbracciare, vi saluto.